che è una debutante in Coppa dei Campioni. Subito l'avvio, dopo un minuto e venti secondi la Juventus è in vantaggio con Paolo Rossi tornato ad essere il pablito del Mondial. C'è questo lancio di Platini verso Briaschi, l'uscita del portiere Malinen provoca il rigore trasformato da Platini che così segna il diciassettesimo gol di un francese nelle Coppe e raggiunge Nestor Convento. Ancora lo show di Paolo Rossi, ecco il suo secondo gol personale, terzo della Juventus e siamo nei minuti conclusivi della partita, ma prima ancora che l'incontro si concluda arriva Paolo Rossi a concretizzare un'azione di Bonner. In alcuni momenti c'è il frutto anche del collettivo che lo mette in condizioni, quindi è un merito suo che realizza, ma c'è anche la squadra che a volte lo pone in questa condizione positiva. Grazie.